Continuano i controlli dei carabinieri nelle scuole di Vicenza per contrastare il consumo e lo spaccio di stupefacenti. Nel corso di uno di questi, in un istituto cittadino, è stato assegnalato la 19enne di Isola Vicentina come assuntrice. I militari l'hanno trovata in possesso di 0,2 grammi di marijuana. Nel corso del Comitato Sicurezza e Ordine Pubblico per predisporre il piano di interventi in vista delle prossime festività natalizie, in prefettura è stato deciso anche di potenziare i presidi fissi delle forze dell'ordine in campo marzio. Indicativamente tra febbraio e marzo prossimi, oltre ad esercito e polizia che già presidiano l'area, arriveranno anche i carabinieri. Due ragazzi girano in bicicletta, in centro, incuranti degli altri. Uno dei due finisce contro un'auto in contrapede mure per tutta risposta, dà un pugno al veicolo facendo scendere l'automobilista e subito scatta la lite a dividere gli agenti della polizia locale. L'automobilista rimedia i chimusi al naso, mentre il ragazzo, minorenne, viene trovato in possesso di quasi 50 grammi di marijuana, 18 bustine per il confezionamento e un grinder. Il ragazzo è stato segnalato alla procura dei minori per spaccio. Presentato ufficialmente oggi a Palazzo Trissino, la prima auto totalmente elettrica in dotazione alla polizia locale. Un mezzo dalle dimensioni contenute è destinato a garantire un veloce spostamento tra le vie del centro. Silenziosità ed economicità dell'alimentazione elettrica sono i requisiti base del futuro potenziamento del parco automezzi, che caratterizzerà anche i prossimi motocicli e le biciclette destinate ai parchi. Monte di Malo, impossibile trovare un casaro e l'amministrazione, che aveva acquistato l'edificio nel 2012, decide di vendere l'attrezzatura e i cimeli in esso contenuti e porta a casa 2.500 euro. In futuro si punta ad una riqualificazione dell'edificio con destinazione d'uso differente.